Nel video di oggi vi mostrerò come utilizzare un ombretto giallo in modo discreto e portabile, quindi come sempre realizzeremo un trucco perfetto per la vita da tutti i giorni, spero che vi piaccia e alla prossima, ciao! Parto andando ad applicare come sempre sul contorno occhi una goccia di olio viso due date di Lime Life by Arcon che ho travasato in questo cosino qui per averlo qui a portata di mano, così la confezione originale la tengo in bagno, invece qua mi metto questo qui piccolino che occupa poco spazio così riesco ad utilizzarlo anche prima del make up. Come vi dico sempre questo è un olio che può essere utilizzato sia a livello di skin care routine ma anche prima del make up come l'illuminante liquido ad esempio, come una sorta di illuminante liquido perché aiuta ad illuminare o sul contorno occhi come lo utilizzo io per andare a distendere bene la zona e far lavorare al meglio i prodotti che vado ad applicare successivamente. Ora vado ad applicare le mie occhiaie, utilizzo il correttore 02 dato che stamattina non sono eccessive, mi concentro solo soltanto nella parte scura dell'occhiaia, questo è un correttore in cera, è molto coprente, la cosa buona è che più si lavora più diventa sottile, non va a segnare la zona nonostante il fatto sia un correttore in cialda. Vedete che lo picchietto e non lo tiro perché altrimenti porto via il prodotto e poi lo tampono leggermente con le dita. Avendo applicato l'olio viso chiudetta di sotto si stende molto più facilmente e risulterà molto più idratante ed elastico. Vado anche dall'altra parte, come vedete va comunque a correggere la zona ma lascia la zona molto luminosa, invece lo 04 che a volte vado a miscelare o utilizzare da solo quando ho degli occhiai un po' più potenti risulta molto più scuro. Vedete come la zona risulta corretta ma allo stesso tempo illuminata. Prima di andare ad applicare il fondotinta ho applicato sulla mano una goccia di olio viso di Udate e un pizzico di illuminante rosato. Vado a miscelarli, questo mi darà una maggiore luminosità e vado ad applicarli sulla parte alta degli zigomi. Vi mostro questo passaggio proprio perché fino alla fine del mele, quindi fino alla fine di agosto, ci sono in offerta questi due prodotti insieme. Quindi l'illuminante viso olio viso di Udate che può essere utilizzato, come vi dico sempre, sia a livello di skin care che a livello di make up. Guardate che luminosità, insieme agli illuminanti viso. Esistono tre colorazioni degli illuminanti viso, c'è la colorazione champagne per perli chiare, la colorazione rosata che va bene sia su pelli chiare che pelli da un sottotono rosato e la colorazione bronze per pelli un po' più abbronzate. Questi possono essere utilizzati sul viso, possono essere ad esempio utilizzati sugli occhi come base per ombretti, su tutto il viso per dare un incarnato super luminoso e utilizzati insieme, come potete vedere, danno questa bellissima luminosità al viso molto molto naturale e va ad esaltare appunto al massimo la pelle. A me piace utilizzarli prima del fondo di vita. Ora procedo con il fondotinta, utilizzo sempre questo di Life Life. Sono andata ad applicarlo sul dorso della mano e lo applico con un pennello non troppo fitto, questa volta un pennello che in realtà è nato per applicare le polveri, però questo mi aiuta ad ottenere un effetto molto molto leggero sulla pelle, proprio perché è l'effetto che voglio ottenere, quindi non voglio un'alta coprenza, ma voglio un incarnato omogeneo e non voglio troppa pesantezza sul viso. Le sopracciglia le avevo già fatte prima per portarmi avanti, ho semplicemente applicato un gel per sopracciglia e poi le ho ridisegnate con una matita. Ricordatevi sempre di applicare poco prodotto e di sfumarlo bene in modo tale che risulti il più sottile sulla pelle e non mi vada a segnare. Dove ho maggiori imperfezioni, prendo il fondotinta direttamente con le dita e vado proprio col dito, quasi come se fosse un correttore, perché comunque questo avendo un'alta coprenza, se utilizzato localmente come lo sto utilizzando io, mi va a coprire le varie discromie. Vedete che qua ho un brufolo molto arrossato e anche da questa zona, in questa zona, quindi non vado a fare una base coprente su tutto il viso, ma mi vado a concentrare nelle zone appunto che devo coprire. Ricordatevi che non si può ottenere un effetto super perfetto sulla pelle perché ricordiamoci che la nostra pelle non è perfetta, la nostra pelle non è come le campagne pubblicitarie, per cui comunque le imperfezioni a mio avviso al di sotto si devono vedere proprio perché in questo modo la pelle risulterà il più naturale possibile e trasparente, quindi bisogna intravedere al di sotto la pelle e non fare mascheroni. Questo è il mio punto di vista, poi comunque ci sono diversi pensieri, diverse scuole, diciamo, io però diciamo che preferisco le basi leggere. vado a fissare con la cipria trasparente traslucida, vado a fissare prima di tutto il correttore proprio perché questa è la parte, diciamo, che si va a infilare più velocemente nelle pieghette e poi centro del viso, proprio un velo. Io non esagero perché non ho una pelle particolarmente problematica e quello che rimane sul pennello lo porto un pochino sul resto del viso. È importante, quando andate a fissare il contorno occhi, il correttore, che la cipria sia sottile e non troppo spessa, per cui fate attenzione a questa cosa perché se comunque la cipria risulta particolarmente spessa andrà appunto a segnarvi la zona. Voi, come sempre, provate con quello che avete a casa, quindi non accanitevi ad acquistare mille ciprie per provarle tutte e trovare quella giusta. Provate con quella che avete a casa. Se vedete che quella che avete a casa vi segna troppo e cercate una cipria un po' più sottile, me lo dite che vi do le informazioni riguardo a questa con cui io mi trovo molto molto bene, che utilizzo spesso nel mio kit da lavoro perché con un'unica cipria riesco a fare tutte le tipologie di pelli e andare a fissare sia viso che appunto contornocchi. Dove avevo applicato prima l'illuminante in crema, quindi in questa zona qui, l'olio viso di Udate, vado a enfatizzare maggiormente questa zona luminosa con l'illuminante numero 06 e vado qua, lo porto proprio qui. Avendo applicato l'illuminante in crema al di sotto, ovviamente risulterà molto molto più bello, però adesso non so cosa vedete dal video, però comunque non è un illuminante troppo metallico, quindi non va a segnare, quindi è perfetto per chi non ama l'effetto super metallizzato e super luminoso sul viso, non va ad enfatizzare magari le ruguette d'espressione o di scromie della pelle, eccetera, e quindi è molto bello proprio perché risulta discreto e delicato. Bronzer, questo è il numero 01, è leggermente satinato, per cui su una pelle chiara come la mia è perfetto, ma anche su una pelle leggermente più abbronzata. e l'aspetto positivo di questo bronzer è che vi dà un'ulteriore leggera luminosità e quindi vi andrà ad esaltare anche l'abbronzatura. Lo applico in modo ampio, quindi il bronzer non è da mettere su tutto il viso, ma da applicare nelle zone giuste. Per facilitarvi potete disegnare una sorta di tre su tutto il viso, però ovviamente va sempre adattato in base alla vostra conformazione del viso. Andiamo a dare un po' di colore al nostro viso con il blush numero 07, che è una tonalità pescata. Si adatta molto bene a diversi look, proprio perché non risulta super aranciata come i molti, molti blush che si trovano in commercio sul pescato, ma è una tonalità molto, molto naturale che va a scaldare l'incarnato, ma non lo rende arancione, ecco. Lo applico con un pennello ampio e lo porto verso l'alto per dare una sorta di effetto lifting. Non vi ho detto prima che ci siano comunicati di applicare, è che con queste temperature per fare aumentare la durata del make-up è consigliabile un primer. Io non li utilizzo tutto l'anno, li utilizzo di più, diciamo, in questa stagione un po' più calda, proprio perché è inevitabile che con il caldo un po' il make-up si sciolga. Quindi io vi consiglio di andare ad applicare prima del fondotinta, quindi prima dei prodotti che è andata ad applicare al di sopra, il primer in spray. Questo è il First Base Make-up Primer, è appunto un primer in spray che si va a vaporizzare su tutto il viso e questo è davvero molto, molto comodo perché non dovete, appunto, spalmarlo. A me, ad esempio, il contatto dei prodotti con le mani mi dà fastidio, per cui mi aiuta a velocizzare anche un po' il trucco la mattina. Quindi lo vaporizzo su tutto il viso e poi procedo con il make-up. Ovviamente va lasciato asciugare proprio un istante, si asciuga molto velocemente. Passiamo agli occhi, iniziamo a dare un pochino di definizione ai nostri occhi con la matita marrone. Questa è sempre quella di Lime Life, la vado ad applicare proprio tra le ciglia, alzo leggermente la base delle ciglia e appoggio la punta fra le ciglia facendo dei movimenti piccolini a zigzag. È importante che la matita scorra molto bene, ma che non sia troppo, troppo morbida, perché questo poi inevitabilmente farà stampare la matita sulla rimacigliare inferiore, quindi deve essere scrivente, scorrevole, ma che si asciuglia abbastanza in fretta. Quindi come vi dico sempre, voi provate con quello che avete a casa. Se poi vedete che la vostra tipologia di matita non è adatta, quindi dovete cercarne una di questo genere. Altrimenti se volete informazioni su questa matita, io come sempre vi lascio il link qui sotto, se no mi iscrivete che rimango a disposizione. Prelevo un pochino di colore dalla matita con il pennello e la applico nella parte più esterna. Faccio una sorta di bordatura dell'occhio e l'allungo verso l'esterno ad occhio aperto. Questo mi andrà ad allungare l'occhio e mi farà poi anche un pochino da base per gli ombretti successivi che andrò ad applicare. Vedete che poi mi alzo un pochino anche verso la piega, se vedete che c'è qualche chiazza dita ripassate il dito e vado proprio ad allungare in questo modo e inizio a correggere anche questa zona, quindi porto la sfumatura nella parte alta ed esterna. Adesso vado ad applicare su tutta la palpebra un ombretto in crema luminoso champagne che mi farà da base per gli ombretti successivi. Questo vi può aiutare ad aumentare la durata e ad enfatizzare appunto gli ombretti applicati al di sotto. Volendo invece che utilizzare un ombretto in crema se ad esempio avete una palpebra particolarmente oleosa e quindi gli ombretti non vi durano potete andare direttamente ad utilizzare una matita come questi qui in gel. Ad esempio questi qui sono doppie e avete due colori. Da una parte c'è la colorazione rosata, questa ad esempio, e dall'altra c'è la colorazione blu. Quindi avete una tonalità chiara, luminosa e una scura sempre luminosa. Sono troppo carine a mio avviso e anche comode e facili da utilizzare. Anche quelle possono essere utilizzate come base per ombretti. Adesso vi mostro come anche un colore di questo genere, quindi un giallo, può essere tranquillamente utilizzato sugli occhi in modo portabile e senza che risulti magari troppo eccessivo che magari ci si senta a disagio. Io ho applicato la base in modo tale che l'ombretto al di sotto si vada ad enfatizzare ulteriormente. Prendo il giallo, lo applico praticamente da metà occhio in poi e lo sfumo verso l'esterno. Vedete che da quel tocco di colore ma non risulta eccessivo. Non spaventatevi ad utilizzare i colori perché magari per voi è troppo perché anche un colore comunque particolare che può risultare magari eccessivo su tutti gli occhi utilizzato nel modo giusto può diventare super portabile. colorazione che non vi ho detto 0-3 Ora invece con la tonalità 0-1 posso tranquillamente utilizzare lo stesso pennello vado ad illuminare la parte interna e lo sfumo verso il giallo. Vedete che io sto facendo dei movimenti molto leggeri per nulla pisanti non serve fare delle strisciate di colore ma bisogna essere molto molto leggeri. Lo applico anche in questa parte qua che di solito sulla mia tipologia di occhio mi va ad esaltare ed aprire molto lo sguardo. Ora prendo un marrone scuro in questo caso lo scelgo da un sottotono caldo voi potete utilizzare tutti i colori che volete e magari seguire lo stesso schema quindi non per forza dovete utilizzare gli stessi prodotti e colori. Questo è il numero 29 prendo un pennello piccolo a penna e dove vado. Vado dove avevo applicato la matita quindi qua vado ad intensificare questa parte esattamente dove avevo applicato la matita. Faccio la stessa cosa anche di qua. Vedete che non sto chiudendo gli occhi appositamente sto lasciando gli occhi aperti quindi sto lavorando la zona ad occhio aperto proprio per capire dove devo andare e quanto devo allungare e correggere. Inizio a sfumare portando il marrone verso il giallo non vado a toccare la parte più satura quindi tocco la parte più esterna in modo che si vada a creare questa gradazione di colore. Nello piccolo da sfumatura prelevo un marrone un po' più chiaro in questo caso freddo però un marrone chiaro questo è il numero 40 lo prendo con questo pennello piccolino e vado a creare la mia ombra quindi la classica mezzaluna che vado a sfumare qui vedete che non faccio avanti indietro con il pennello come spesso vedo dovete fare piccoli movimenti circolari e leggeri perché se fate avanti indietro col pennello semplicemente spostate il prodotto da una parte all'altra non state facendo nulla anche in questo caso lavoro ad occhio leggermente aperto perché sto cercando di capire dove posizionare il colore per non andare in una zona sbagliata se notate che il giallo durante la sfumatura si è leggermente un po' sbianito riprendete con il pennello col pennello di prima e lo andate ad intensificare quindi applicate qui e lo sfumate verso il marrone ricordatevi sempre di non applicare gli ombretti e lasciarli lì quindi che ne so ombretto ve lo spiaccicate sulla palpebra e lo lasciate lì no dovete sfumare in modo tale che risulti tutto molto più omogeneo molto più morbido e riprendo anche il colore di prima lo 01 questo questo mascara con queste temperature io vi straconsiglio il making waves che è waterproof proprio perché è a lunga tenuta non si va a stampare è nero in poche passate ottenete un bellissimo effetto se non vi piacciono i mascara a lunga tenuta allora c'è il perfect mascara però questo diciamo che c'è il rischio che si vada a stampare molto più facilmente rispetto all'altro se volete un effetto wow di cilia belle lunghe allungate infoltite potete andare a utilizzare insieme quindi quello waterproof e questo allungante che all'interno delle fibre vi darà un effetto stupendo ora ve li mostro insieme io parto dal making waves questo qui perché così mi va a creare una base waterproof a lunga tenuta vedete che in due secondi ho praticamente già fatto vado anche nell'altro occhio il perfect mascara mi concentro più diciamo sulle lunghezze che in questo modo otterrò l'effetto super super lungo lungo di cili allungate per concludere io do un'ultima passata di making waves per renderle ancor più resistenti e voluminose ora passiamo le labbra facciamo qualcosa di naturale ma con un tocco di colore quindi applico prima della matita un rossetto cremoso non troppo saturo non opaco luminoso che è il 204 che ha una tonalità aranciata questo va a riprendere un po' anche il colore del blush vedete che è molto confortevole e facile da applicare e ora vado a contornare leggermente le mie labbra con la true red di lame life che è un bel rosso vedete che sto facendo in modo leggero non troppo pesante però dà quel tocco di colore in più per sfumare la matita riprendo il rossetto e lo ripasso basta anche il video di oggi è terminato io spero che questo trucco vi sia piaciuto fatemi magari sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate se magari proverete anche voi a rifarlo io vi ringrazio di cuore e ci vediamo alla prossima ciao